Ma partiamo allora da quelle che sono le indagini in corso da parte della Procura di Perugia su una presunta attività di dossieraggio contro politici, imprenditori e VIP avviata con le denunce da parte del Ministero della Difesa Guido Crosetto. A tal proposito vado a dare il benvenuto all'Avvocato Andrea Agostini, Avvocato Cassazionista. Buongiorno Avvocato. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora Avvocato, le polemiche su questa vicenda non si placano, si parla addirittura di mandanti, ma cerchiamo di partire dalle basi. Che cos'è un dossieraggio? Che cosa si intende per dossieraggio? Beh, dossieraggio in gergo normalmente viene collegato a un'attività clandestina, dove in qualche modo si mettono insieme informazioni che vengono raccolte abusivamente, con riferimento al profilo di una persona nota o che comunque ha un oggetto di particolare interesse, spesso vittime ne sono politici, ma possono essere imprenditori. E le informazioni magari hanno rilevo di interesse nazionale, perché legati a aspetti militari, per dire, oppure anche di consenso elettorale. Quindi il dossieraggio è un'attività che normalmente consideriamo illecita, di messi insieme di fascicoli per ottenere informazioni abusivamente riservate, magari a danno di qualcuno o a beneficio di qualcun altro, magari il paese straniero che compra informazioni per gestire una campagna elettorale in un paese considerato avverso. Questo è un po', oppure un partito politico contro un altro. Ecco, il tema oggi rischia di essere quello dell'eversione, di sovvertire un po' le regole del gioco democratico, facendo trapelare sulla stampa, facendo partire delle indagini mirate a tocche per colpire l'avversario politico di turno. Questo è il timore. L'altro aspetto da considerare, perché se il giornalista ovviamente è i limiti dell'attività di cronaca, ma soprattutto di indagine del giornalista, che va a scoprire, che fa lo scoop e porta all'attenzione pubblica magari cose singolari, curiose, magari illecite, che possono servire per formare il consenso dell'elettorato. Sì, e qui poi si apre un mondo, perché un conto è ottenere una notizia, un altro è interessarsi ad una determinata parte e chiedere se appunto si possono avere notizie, quindi mirate, su quella parte o piuttosto l'altra parte politica. Bravissima, è l'intervento assolutamente competente, perché adesso io non ho chiesto a molti fascicoli in mano, ma siccome sono coinvolti tre giornalisti del giornale Domani, da quello che si legge dalla cronaca, in questo caso si dovrebbe ipotizzare un'istigazione, cioè questi giornalisti in qualche modo hanno messo su un soggetto che ha avuto accesso abusivo a sistemi informatici, ha fornito loro queste informazioni che sapevano essere riservate, che non potevano essere divulgate, e quindi l'aspetto è quello dell'istigazione, del concorso a un'attività che comunque è criminale. Senta, Avvocato, si parla di questa banca dati SOS, un acronimo che sta per segnalazioni di operazioni sospette. Cosa c'entra tutto questo con un'attività di indagine? Bella domanda, allora cerchiamo di renderla più semplice possibile. Se tu o io compriamo casa o prendiamo un mutuo, o ci sono delle entrate di particolare valore, o movimenti di denaro contante oltre certe soglie, interviene la SOS, la segnalazione di operazioni sospette. Quindi un po' tutti ne siamo interessati, anzi tutti ne siamo interessati da queste segnalazioni. Però c'è un vaglio preliminare dove il 90% di queste segnalazioni poi vengono scartate e finiscono nel cestino perché corrispondono a attività assolutamente normali, lecite. Poi però incrociando questi dati con altre banche dati è possibile andare a verificare alcune ipotesi particolari, o magari c'è un'attività di indagine che riguarda me e te, che veniamo considerati come membri di un'associazione a delinquere di stampo mafioso oppure versiva finalizzata al terrorismo, si incrociano queste operazioni sospette con questa ipotesi di rado su cui si sta indagando, si sale di livello, si va a cedere quindi ai nomi dei soggetti e un'attività giudiziaria prende maggiore consistenza. Ma le segnalazioni per le azioni sospette sono una cosa assolutamente lecita, legale, normale. Il problema è arrivare ai nomi delle persone che fanno queste operazioni, divulgarle quando dietro non c'è un'attività investigativa su una precisa ipotesi di rado. Cioè non posso andare a cercare informazioni per poi aprire eventualmente indagini oppure non posso andare a cercare queste informazioni per poi passarle ai giornali o all'amico che chiede magari curiosità. Questo è un po' il tema delle segnalazioni operazioni sospette, il limite della bontà o meno di queste operazioni sospette. Ci sono invece limiti nel campo delle indagini? Perché poi quando si cercano ovviamente informazioni nel corso di un'indagine, di un'inchiesta giudiziaria, ecco che parte la ragnatela delle relazioni per cercare di individuare elementi che possano essere utili alle indagini. Ecco, su questo fronte ci sono dei limiti? Assolutamente sì. Innanzitutto ci deve essere un'indagine in piedi che riguarda me o te, che siamo indagati di qualche reato. Poi dopo, a seguito di queste indagini, si vanno a fare tutta una serie di verifiche, anche patrimoniali, sulle tantissime banche dati che abbiamo in Italia. Non c'è soltanto la questione della segnalazione operazioni sospette, ci sono tante banche dati, adesso senza che andiamo a sviscerare, si incrociano i vari dati. Ma a monte ci deve essere un'ipotesi di reato. Non può essere una mera curiosità andare a verificare, perché ad esempio, che ne so, tra gli indagati, tra le persone spiate ho visto c'è Fedez, tra quello che si è letto sui giornali. Ecco, adesso magari lo si voleva ricattare, non lo so, magari c'era solo una curiosità morbosa per il personaggio, non lo so, ma comunque non è che si può, può il pubblico funzionario di turno, il pubblico ufficiale di turno andare a verificare per la curiosità sua o di qualche amico, perché magari è accaduto anche questo. Infatti, nell'indagine in questione, adesso, parlare di dossieraggio, forse è ancora prematuro. Ci sono però, mi pare, tipo oltre 30.000 accessi abusivi a sistema informatico che dimostrano un'attività spasmodica di ricerca. Poi, che cosa è stata fatta di queste ricerche, non è dato sapere. Ricordiamoci però come è partito a monte il tutto, no? Da un esposto del 2022 del ministro Crosetto, che appena diventa ministro, come viene formato il nuovo governo, arrivano degli articoli sul giornale Domani, di De Benedetti, se non ricordo male il giornale Domani, dove si parla di tutte entrate di Crosetto da determinate aziende su determinati incari, che quindi poteva esserci un conflitto di interessi con la nomina del ministro della difesa, e poi è venuto fuori, seguito dell'esposto fatto da Crosetto, che tanti altri sono stati spiati di quel governo appena nominato, quindi del governo Meloni, appunto. Quindi il sospetto è che ci sia una volontà, se vogliamo, eversiva di dossieraggio, però al momento questo è prematuro per dirlo. Non sappiamo se effettivamente sono stati fatti di dossier o singoli accessi finalizzati, poi a cosa. Ecco, io per chiudere volevo chiederle appunto una riflessione in quanto avvocato, ma anche come uomo impegnato in politica, perché poi insomma c'è di mezzo, da un lato la libertà di informazione e i suoi limiti, dall'altro però la correttezza delle istituzioni. Vorrei mostrare questo articolo, qui siamo su Agi, che dice la riunione del centrodestra sul dossieraggio congela la commissione di inchiesta, ma Salvini non molla. Quindi all'indomani della vittoria in Abruzzo i partiti di maggioranza tornano a discutere dell'inchiesta di PM di Perugia. Il caso non viene affrontato in Consiglio dei Ministri perché riferisce un big del centrodestra se ne sarebbe parlato, tra l'altro, durante il vertice dei leader intertenutosi prima del Consiglio dei Ministri. Quali possono essere gli effetti di tutta questa vicenda sul panorama politico italiano? Ma è ancora presto per dirlo, perché io lascerei fare il lavoro alla magistratura appunto dando piena fiducia all'attività degli inquirenti. La magistratura sta funzionando, lo abbiamo visto ad esempio dal fatto che il servito dell'esposto, se ne è interessato la procura di Roma, prima è stato individuato il finanziere, Striano, poi dopo questo ha messo in ballo il magistrato dell'antimafia Laudati, allora la competenza è passata a Perugia, adesso si sta valutando anche su Milano per altre cose. La magistratura sta facendo i propri lavori inquirenti, io lascerei fare alla magistratura il suo lavoro, poi su questi esiti ragionerei in termini di politica e di commissioni parlamentari di inchiesta. Certo va fatta a chiarezza, perché comunque sia ne va non soltanto della tenuta democratica del Paese, che è la cosa più importante, che chiaramente interessa il governo, ma anche credo onestamente debba interessare tutte le forze oggi non al governo, ma riguarda la privacy di ognuno di noi. Ti faccio un esempio concreto, io sono il personaggio politicamente esposto, si dice in gergo, non perché abbia affrontato elezioni se è stato eletto a qualche parte, ma sono il segretario amministrativo regionale di Fratelli d'Italia. Quindi i miei conti, le mie dichiarazioni vengono pagliate più e più volte rispetto ad altre, perché si vuole verificare che io sia non al di sopra di ogni sospetto, ma di più. E quindi ci sono per me in automatico segnalazioni sospette, banche dati che si interessano sempre. Questo nei limiti di regia è bene, ma che le mie proprietà, che i miei conti, che i miei guadagni debbano finire su un giornale, senza che ci sia un'indagine della procura, senza che ci sia nulla, è una grave violazione della mia privacy. Questo per me è soggetto politicamente esposto, con tutte le conseguenze che ne possono derivare dal punto di vista dell'immagine, della vita privata, eccetera. Ma riguarda la privacy di ognuno, anche il semplice di chi è la macchia di tizio, la barca di Caio, come l'ha acquistata, se ha preso un mutuo. Sono informazioni che ci sono banche dati che le raccolgono, ma non è che siamo veramente al grande fratello. Io che interessò a sapere del mio salumiere, della macchina, della moto, o di qualsiasi altra cosa. Ne va veramente della privacy di ognuno. Quindi sicuramente va fatta una verifica attenta, anche politica. Il fatto che sia finito di più il centrodestra in questa vicenda, invece, suscita qualche pensiero? Allora, io non sono un complottista per natura. Però, se andiamo a vedere le nomine alla direzione nazionale dell'antimafia, noi abbiamo avuto che adesso c'è Melillo, il procuratore generale che ha fornito chiaramente, è stato ascoltato, eccetera. Prima abbiamo avuto nomi illustri, di cui non dubito dell'onestà, come Pietro Grasso, Franco Roberti, Federico Gaffiro de Rao, che poi sono stati eletti i primi due in Parlamento al Partito Democratico e il terzo al Movimento 5 Stelle. Secondo me il problema che si pone è proprio di opportunità che i magistrati transitino in politica e dalla politica poi ritornino eventualmente a fare i magistrati. queste commissioni a me non piacciono, ma non lo sostengo da sempre, da quando ho iniziato gli studi di diritto il primo anno di giurisprudenza. Sono cose che, secondo me, un Paese democratico, civile, non dovrebbe tollerare. Perché poi è chiaro che ti viene un sospetto, no? Se chi sta a capo dell'antimafia, poi mi viene eletto nel PD o nei 5 Stelle, poi oggi vedi che su questa vicenda PD e 5 Stelle sono molto silenti. Quando invece dovrebbe essere interesse di tutte le forze democratiche capire che cosa c'è dietro, questa cessa abusivi, dove volevano portare, se c'era un mandante, quali mandanti, quali le finalità, ma comunque evitare che tornino a ripetersi episodi come questi. Perché il caso Palamara, secondo me, ha già aperto delle ipotesi, ma vediamo anche adesso la soluzione proprio di questi giorni del papà di Renzi e di Lotti, amico di Renzi. Ci sono dei casi in cui ti viene il dubbio oggettivamente che delle attività vengano montate, informative, e poi la magistratura, chiaramente, perché fortuna siamo un Paese democratico, la magistratura funziona, le smonte si arriva alle soluzioni. Ecco, io stare attento. Dalla politica, insomma, ci si dovrebbe attendere che le regole valgano per tutti, a seconda, insomma, di chi le fa e del periodo storico, ma anche l'attenzione rispetto di queste regole. Aspettiamo, dicevo, di conoscere gli sviluppi. Intanto ringraziamo l'Avvocato Andrea Agostini per le precisazioni, anche per la spiegazione, ecco, rispetto a termini e temi, magari che non sono così per tutti semplici da comprendere. Grazie, grazie Avvocato Agostini. Grazie, grazie a voi, buona giornata.